Ale 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 milan ale 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 milan ale 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 milan ale 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 milan ale 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 milan ale in Italia, Milan, in Europa, Milan e dovunque Milan per sempre sono sempre al tuo fianco io di te non mi stanco sei la squadra più forte che c'è perchè il Milan è forte o lì perchè il Milan è forte o lì perchè il Milan è forte 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 se la merda di Milano e lo stai maggiore sul cuore rappresenta chi solo è cazzo a finta e delusioni sempre sono obbligazioni e lo sole li siamo noi ma chi cazzo siete voi buongiorno e bentornati a spasso col tringa nella macchina infernale il tringa è sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tringa e doppio pollice per il diavolo primo commento team maglie calcio in descrizione tutti i miei social e soprattutto Matteo Chiamenti il Milanista qualunque iscrivetevi da Matteo se ancora non lo avete fatto buongiorno a tutti ragazzi pochi preamboli stamattina perchè è veramente giornata da Milan giornata di quelle importanti è una vittoria che deve venire fuori assolutamente perchè è il primo bivio di stagione assolutamente si probabilmente è una delle partite più importanti dopo la corsa a scudetto della scorsa stagione questa senza dubbio è la partita più importante perchè in tanti parlano dell'aspetto economico però a me dell'aspetto economico veramente non me ne frega un cazzo perchè sentire tifosi parlare dei soldi che entrano e non entrano nelle casse del Milan veramente lasciamolo fare agli altri e veramente lasciamo perdere questi commenti perchè a me ne frega un cazzo a me dei soldi che entrano nelle tasche del Milan a me interessa che il Milan vinca perchè il Milan deve deve iniziare a far bene in Europa e deve farlo in maniera importante in maniera seria far vedere a tutti che il Milan non è forte solo in Serie A perchè fino ad oggi siamo stati defraudati di troppo qualcuno ci ha sempre messo lo zampino per portarci via dei risultati e stasera sperando pregando che nessuno ci metta le mani il Milan deve vincere il Milan deve vincere proviamo a dare una sorta di formazione perchè dalle parole di Pioli qualcosina è saltato fuori ci sono un paio di ballottaggi ma ne parleremo fra un secondo quasi sicuro del posto ed è la seconda volta che succede da quando è al Milan dovrebbe essere Ante Rebic sulla destra un Rebic che gioca in quella posizione spesso e volentieri quando era in nazionale adesso Rebic è un po' che è in nazionale ha dei problemi però al Milan poi di fatto non l'ha mai fatto se non in un'occasione dall'inizio o qualche volta a partita in corso quindi andiamo a dare la formazione con Ciprian Tatarussanu il nostro portiere e ragazzi fiducia in Tatarussanu perchè grande fiducia in Tatarussanu che comunque giocando sta mettendo una prestazione sempre un pochino migliore di quella precedente quindi il discorso vale per i portieri quanto per i giocatori anzi per i portieri forse anche di più perchè è un portiere che non gioca da un anno come Tatarussanu era normale che all'inizio potesse avere qualche problema però mettendo minuti nelle gambe e giocando partita dopo partita si sta migliorando la difesa con Calulu a destra Gabby e Kier saranno i centrali e Teo Hernandez a sinistra quindi Stefano Pioli si affida ai senatori di questa squadra non fa esperimenti Serginio Dest in fase difensiva non è piaciuto non è piaciuto assolutamente Serginio Dest sta facendo fatica perchè comunque il Milan lì dietro ha bisogno sì di un esterno destro di un terzino destro che spinga ma ha bisogno che il terzino impari anche a difendere sostituire Davide Calabria in quella posizione non è semplice perchè Florenzi è un giocatore che era molto adatto a sostituire Davidino Calabria perchè è difensivamente molto forte sono molto bravi davanti in fase offensiva ma a livello difensivo sono molto capaci e avendo già un terzino sinistro che spinge tanto il terzino destro assolutamente deve essere un terzino che copre e che copre bene perchè quando Teo parte poi bisogna mettersi a tre dietro una sorta di difesa a tre dietro e Serginio Dest non lo fa bene non lo fa bene ai movimenti che che manca qualche movimento in questo giocatore che vedo meglio dal centrocampo in su io e non soltanto io anche Stefano Pioli penso la possa pensare un po' così anche se ci sta lavorando i due mediani saranno Sandro Tonali e Isma Ben Nasser quindi torna la coppia titolare del Milan una coppia che farà da frangifluti davanti alla difesa ma che soprattutto avrà tanto da dire davanti con gli inserimenti di Sandro Tonali e il metronomo Ben Nasser e quando gioca Ben Nasser ragazzi il Milan ha idee e tocchi completamente diversi da quando non gioca Ben Nasser è un ragazzo è un giocatore con tante idee con visione di gioco e soprattutto è anche un motorino quindi è un centrocampista veramente su cui il Milan si affida tantissimo è probabilmente il giocatore che tocca più palloni nel Milan e su cui a parte il farci molto affidamento è un giocatore che sposta degli equilibri al pari di Leao Brahim Diaz in questo momento perché Ismael Ben Nasser in questa stagione ha fatto finalmente il salto di qualità anche a livello mentale lì davanti ragazzi lì davanti siamo in un periodo eccezionale perché abbiamo tutti e stanno tutti bene quindi dovrebbero giocare Leao a sinistra Rebic a destra c'è il ballottaggio il ballottaggio Krunic Krunic De Ketler trequartista per il momento è avanti Charles De Ketler Pioli da spazio a Charles perché è giusto continuare a puntare su di lui solo facendo così si recupera il giocatore perché a questo giocatore manca un tassello per sistemarsi completamente sia psicologicamente che a livello di campo e di gioco manca un gol o una giocata stratosferica e queste possono essere le sue partite perché senz'altro in casa la Dinamo Zagabria non si arroccherà in difesa quindi qualche spazio in quelle zone di campo si potrebbe aprire lì davanti partirà Olly Giroud ma attenzione a Divock Orighi ragazzi perché Orighi è lì pronto è bello scalpitante è bello energico e vuole giocare quindi partirà Olly dall'inizio però Divock è bello carico quindi attenzione perché le staffette fra Olly Giroud e Divock Orighi potrebbero partire già da stasera allora per quanto riguarda il posizionamento dei giocatori lì davanti probabilmente vedremo una sorta di due attaccanti perché Ante Rebic senz'altro non sarà un giocatore che gioca con i piedi sulla linea quindi così come con Brian Diaz probabilmente ci sarà Leao molto largo sulla sinistra molto largo sulla sinistra un Theo Hernandez che punterà in diagonale verso la porta un Charles de Ketler dietro con Rebic che girerà intorno a Olivier Giroud quindi il Milan vuole vincerla questa partita e la formazione rispecchia questa cosa ragazzi non c'è molto da dire perché comunque io penso che il nervosismo dei tifosi sia anche parte di queste giornate di queste partite, di queste competizioni così importanti stamattina sui vari siti internet vedo calcoli mica calcoli il Milan deve vincere due partite poi chiaramente ci sono anche altri abbinamenti da fare ma se il Milan vuole iniziare il suo cammino in Europa deve cambiare mentalità bisogna vincere bisogna assolutamente vincere questo non vuol dire che il Milan non lo stia facendo o non lo possa fare però bisogna essere più forte di tutto e più forte di tutti dobbiamo sopperire anche alle varie ladrate che ci arrivano in questa competizione arbitri scandalosi contro il Milan addirittura anche le squadre straniere europee diventano come le italiane tutte che parlano tutti che protestano tutti che si buttano per terra quindi anche queste cose contro di noi vediamo vediamo siamo carichi io sono carichissimo un appunto a chi sarà a Zagabria non chi partirà in gruppo con i ragazzi della Curva Sud ma attenzione a chi andrà da solo attenzione perché il pericolo non è mai per chi viaggia con la Curva Sud in gruppo perché quando si è in gruppo si è in gruppo si è scortati e comunque se succede qualcosa si è protetti a chi viaggia da solo attenzione fate attenzione per chi viaggia da solo perché è una trasferta pericolosa quando loro sono venuti qua hanno fatto casino e le hanno buscate e c'è stato un comunicato anche dei Bad Blue Boys quindi attenzione ripeto non per chi viaggia in gruppo soprattutto per chi viaggia da solo ripeto non iniziate qua sotto ah nel 2022 ancora queste cose perché vi ripeto la stessa cosa che vi dico sempre il vostro commento stupido non cambia le cose la vostra ideologia del cazzo non cambia le cose le cose succedono anche se sono sbagliate quindi state attenti vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero ricordate che su questo canale si fa la vecchia maniera noi siamo vecchio stampo stasera dovremmo essere in live post partita pregando l'altissimo dio del calcio che vada tutto bene ciao a tutti ragazzi sono nervosissimo Fabio Bergomi sei un pagliaccio ha ha